Siamo arrivati a Bologna-Napoli, Milan-Parmas, solo Juventus, Roma-Verona e Udinese-Lazio. Queste le breaking news di TG Com 24. Quest'estate puoi tuffarti nel mare cristallino di spiagge paradisiache, scalare le montagne più alte e ammirare panoramimo zaffiato, perderti tra i borghi storici e i meravigliosi banchi, trovare più di mille specialità diverse senza andare lontano. Riscopri l'Italia con noi. Quest'estate raggiungi le bellezze del nostro paese con Trenitalia. Con Draghi Allianz ti permette di sospendere la polizza auto anche solo per due giorni. Con l'app Allianz Now basta un clic ed è gratis. La durata della tua polizza sarà prolungata automaticamente. Chiedi al tuo agente. Allianz, insieme dall'Allianz. Opzione disponibile fino ad un massimo di 30 giorni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Nei Wind3 Store sono arrivati gli sconti estivi fino a 500 euro sui migliori smartphone. E se scegli un Xiaomi Redmi 9 con qua camera posteriore con le offerte Wind3 è incluso. Info anticipi, costi e condizioni su wind3.it. Vieni nei Wind3 Store. Traffic. Sponsored by. I carburanti Esso Synergy contengono additivi creati per aiutare a proteggere il motore della tua auto. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri di più su esso.com La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla 15 Parma-La Spezia tra la diramazione per Santo Stefano di Magra e Vezzano in direzione La Spezia. Grazie.